buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fanu tv con la quale iniziamo la giornata oggi è sabato un weekend che si spera piacevole grazie anche al bel tempo che dovrebbe insomma essere presente in tutte le marche poi vedremo le previsioni del tempo intanto passiamo sempre tra l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi non è un santo ma è un evento cioè la dedicazione delle basiliche dei santi pietro e paolo a roma l'una sul vaticano quella di san pietro dove il circo di nerone dove era il circo di nerone dove fu appunto martirizzato il primo degli apostoli l'altra sulla via ostiense dove fu seppellito san paolo dopo essere decapitato un luogo oggetto di venerazione di pellegrinaggio da parte dei primi cristiani appunto delle cristianesimo dei primi cristiani che praticarono questa fede san pietro crocifisso san paolo decapitato questa la condanna che ebbero i due grandi principi degli apostoli le previsioni del tempo ci indicano una situazione buona dobbiamo dire bel tempo con sole splendente per l'intera giornata i venti saranno al mattino moderati da ovest nord ovest al pomeriggio deboli da nord nord ovest il mare e poco mosso la temperatura 8 la minima 14 la massima la massima si è un po abbassata rispetto alla giornata di ieri che era particolarmente calda ed ora apriamo i giornali a partire dal resto del carlino sulla pagina di fano e abbiamo il volto sorridente di una bella ragazza che purtroppo è deceduta giovanissima si chiamava federica polverari aveva 26 anni ed è morta il giorno prima della tesi di laurea come intitola il il giornale giovedì 16 doveva discutere la tesi di laurea in social design la malattia però la uccisa il giorno prima mercoledì negandole l'ultimo sorriso ebbene era federica polverari 26 anni fanese morta all'ospedale di verona dove è stata ricoverata nelle ultime settimane per l'aggravarsi delle sue condizioni federica era molto nota nella comunità del vallato ma praticava il mondo degli scout ed era molto presente tra gli adolescenti di tutta fano avendo lavorato come animatrice per bambini con i pupazzi di tiro e molla quindi era una ragazza molto estroversa molto amichevole e purtroppo il suo sorriso si è spento anzitempo vediamo anche le due notizie di spalla del prima pagina del carlino di oggi abbiamo uno spettacolare incidente che si è verificato ieri mattina intorno alle 10.30 sull'autostrada a 14 tra i due ponti di centinarola è andato a fuoco un camion un auto articolato che trasportava del materiale plastico quindi pensate le fiamme che fumo hanno elevato verso il cielo una colonna che si è vista in tutta la città l'incidente è iniziato con tre grandi esplosioni subito l'autista è sceso dalla motrice ed è riuscito con grande sangue freddo a staccare appunto la parte anteriore del camion e liberarla dal rimorchio che è andato praticamente distrutto sul luogo i vigili del fuoco di Fano e la polizia autostradale che ha regolato il traffico il traffico si è fermato per circa un'ora per mettere in sicurezza la carreggiata preside dobbiamo trovare una nuova sede entro giugno si parla della demolizione e della ricostruzione dell'istituto Lex Carducci del liceo classico di Fano Nolfi Apolloni da qui a pochissimi giorni partiranno i lavori e quindi occorre trovare una sistemazione di risulta tiriamo la pagina e vediamo un altro lutto questa volta era un personaggio diciamo non dico quell'altro non fosse importante per carità ma questo aveva un ruolo significato aveva assunto un ruolo significativo e per Fano e per tutto l'entroterra addio a Carlo Moschini futurista della nautica è stato veramente il padre della nautica affanese colui che ha introdotto l'uso della vetro resina per realizzare gli scafi con la sua metodologia con la sua perspicacia la cantieristica fanese aveva preso il volo negli anni 70, 80, 90, 2000 fino alla grande crisi del 2008 ebbene sono stati anni d'oro anni in cui le commesse fioccavano nei cantieri di Fano si è creato un vasto indotto che continua ancora oggi a perdurare e a costituire la cantieristica come un settore importante di tutta l'economia fanese i funerali si svolgeranno domani nella chiesa anzi oggi mi sembra alle 15 nella chiesa di Caminate è morto un gigante intitola il resto del Carlino l'uomo che ha portato la vetro resina in Italia a lui commissionavano degli scafi le più grandi ditte che operavano nel territorio si tratta della Ferretti, della Pershing, della Benetti, dell'Azimuth questi grandi marchi che poi dopo se ne sono un po' andati chi in Romagna, chi in Ancona e a Fano comunque qualcosa è rimasto e continua a operare una giornata dedicata alla lotta contro il diabete una malattia suddola che non emette sintomi ma che erode lentamente l'organismo fino a effetti letali ci sarà uno screening glicemico gratuito per prevenire il diabete questo è il senso dell'iniziativa promossa oggi dall'Associazione Diabetici di Fano l'appuntamento è nella galleria del Fano Center il grande ipermercato di Bellocchi dalle 9.30 alle 13, dalle 14.30 alle 18.30 dove sarà allestito uno stand con il diabetologo Giulio Lucarelli è responsabile del reparto di endocrinologia e diabetologia dell'Aste di Pesaro e Urbino in questo stand si misurerà la glicemia, si rileveranno la pressione arteriosa la circonferenza della vita per valutare l'indice di massa corporea qual è il consiglio che si dà per evitare questa brutta brutta malattia è quella di condurre una vita sana, mangiare cibi opportuni e fare soprattutto del moto la posizione sedentaria è quella che con l'alta pressione e appunto la glicemia alta favorisce il diabete un edificio troppo brutto a San Lorenzo in campo insorge la popolazione e un po' preclude la vista del bellissimo borgo del paese un gruppo di cittadini ha protestato con oltre 100 firme raccolte in poco tempo con testa al sindaco la scelta di questa costruzione che viene considerata brutta il motivo? I lavori sono ricominciati e la volumetria è la stessa chiamata Italia Nostra e per la soprintendenza per evitare questo scempio la soprintendenza al momento ancora non ha risposto e poi si ricorda un nostro militare Marco Beci un uomo buono ucciso a Nasseria si tratta non di un militare ma di un cooperante insomma il noto cooperante Marco Beci originario di Pergola verrà ricordato domani nella città dei Bronzi a vent'anni della morte l'appuntamento è alle 17.30 nella sala consigliare un altro ricordo è quello delle 11 ragazze che salvarono i marinai il 18 novembre del 1917 quando 104 uomini della marina militare si incagliarono con il loro scafo davanti a Marotta ebbene in quel giorno 11 ragazze sfidarono il mare per aiutare questi marinai e il loro atto di eroismo, li vediamo qui in questa fotografia verrà ricordato a Marotta era il 18 novembre del 1917 a loro debbono la vita 104 uomini a Urbino vediamo Urbino maggioranza e opposizione uniti dal Baita questa casa di Isola del Piano che deve essere così ristrutturata si tratta della Baita del Cesane dovrebbe diventare un luogo di ritrovo che si interessa al lato energetico magari con pannelli fotovoltaici o un impianto solare termico per il recupero delle acque meteoriche cosa che oggi si considera poco ma che in realtà è rilevante ebbene il Consiglio Comunale di Urbino ha approvato alla unanimità la partecipazione della città ducale a questa impresa insieme ad altri comuni che appunto faranno parte del progetto si tratta del comune di Fossombrone e quello di Isola del Piano il costo per l'acquisto dell'immobile è di circa 160 mila euro di cui 40 saranno a carico rispettivamente di Urbino e di Fossombrone mentre Isola del Piano è più piccola Isola del Piano parteciperà con il 20% il caso Giulia Volponi la democrazia in città Mario Rosati capogruppo in Consiglio di Viva Urbino torna sulle dimissioni del gruppo di Lino Mechelli e ci sono in questo caso delle precisazioni senza il vero apprendistato i giovani finiscono allo sbando è una riflessione questa che viene compiuta da Giuseppe Balduini il quale è stato un consigliere comunale di centrodestra per due legislature a cui l'argomento sta molto a cuore ebbene vi ricordate quando c'era l'apprendistato i ragazzi imparavano un mistiere e gli imprenditori avevano per un periodo di tempo un rapporto agevolato con questi ragazzi che poi venivano assunti in pieno come veri e propri operai numeri da record per il tartufo ad Acqualagna è stata veramente una stagione importante questo per il centro dell'entroterra e vediamo qualche numero 40.000 persone sono state considerate presenti nel centro di cui molti stranieri 5.000 metri quadrati totali dedicati al tartufo 100 gli stand allestiti 750 i camper arrivati un'edizione da record che sarà ricordata negli annali ha detto il sindaco Luca Lisi è stata inoltre la prima volta per Acqualagna a ricevere la visita di una delle più alte cariche dello Stato quale Giorgia Meloni che è appunto andata ad Acqualagna per sottoscrivere un accordo con la regione Marche comuni spogliati dei Bancomat hanno la loro riscossa con l'ATM il Bancomat è uno di quei servizi essenziali ormai anche per i piccoli centri dell'entroterra che senza appunto questo servizio si sentono si sentono penalizzati poste in Stagliani grazie poi anche all'interessamento dell'onorevole Baldelli installerà sportelli a Petriano Borgo Pace Monte Grimano Terme e Mercatello sul Metauro dopo le proteste c'è stato appunto il coinvolgimento dell'onorevole Antonio Baldelli che ha condotto una trattativa a Roma una volta in funzione questi servizi daranno accesso a molte persone pensate addirittura si potrà ricevere anche i passaporti e le carte di identità oltre a tessere sanitarie e poi certificati giudiziari e insomma molte altre cose oltre che quelli economici e a questo punto abbiamo terminato l'esame delle notizie più importanti pubblicate dal resto del Calino e diamo un'occhiata allo sport perché vediamo che la Visse ha una grande voglia di riscatto contro la Torres banchieri loro forti ma noi abbiamo fame di punti ha dichiarato il tecnico sulla gara di lunedì prossimo al Benelli contro la Capolista le 18.30 c'è anche una trasmissione su Rai Sport bisogna mettere a detto tutti nelle condizioni di segnare anche i centrocampi anche i terzini insomma se sono davanti alla porta devono tirare contro il portiere e magari superarlo per quanto riguarda invece il fanno calcio Mosconi Zammarchi e l'arma in più l'ex allenatore Granata con Padovani può formare una coppia d'attacco formidabile il nuovo tecnico spunta il nome di Carboni ebbene quale sarà il prossimo avversario del fanno calci ci sarà una trasferta ad Ascoli per l'Alma Juventus che affronterà domani alle 14.30 allo stadio Don Mauro Bartolini di Monticelli l'atletico guidato da Seccardini e l'imperativo è vincere per il Granata vediamo anche gli altri sport vediamo il basket l'ammarcorde di un avversario speciale Pesaro quanti ricordi fantastici per me la guardia che giocò alla VL nel 2015 e poi ancora vediamo il volley la Virtus con il Lago Negro è vero scontro diretto domani alle ore 18 al Palace all'Iende andrà in scena la sfida tra la Smart System di Fano e la rinascita al Lago Negro le due formazioni sono a stretto contatto 13 punti contro 12 quindi sarà veramente una gara allo spasimo come ormai ci ha abituato la Virtus la Megabox di Pesaro al completo una grande sfida alla capolista a 1 donne domani alle 17 in casa con Novara Mingardi ritrovate le certezze e poi ovviamente i giornali sportivi danno grande grande risalto alla Nazionale di Calcio italiana che ha superato la Macedonia e ovviamente il confronto di Sinner che sta appassionando tutti non solo gli appassionati di tennis ma veramente tutti i tifosi italiani Sinner ha una grande simpatia ha una grande empatia per attirare il plauso della gente vediamo ora il Corriere Adriatico l'apertura è dedicata alla sanità abbiamo un ritorno sulla sanità per un discorso che è iniziato nei giorni scorsi in modo particolare per la sorte dei 50 posti letto di ortopedia che insomma sono un po' ballerini vengono assegnati a Pesaro dovevano essere assegnati a Fano insomma c'è ancora grande indecisione e nemmeno questa intervista che è stata pubblicata dal Corriere Adriatico nemmeno con questa intervista l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini chiarisce le decisioni della giunta regionale infatti nessuna decisione sui 50 posti letto aspettiamo le indicazioni dell'azienda sanitaria territoriale 1 ovvero dell'azienda pesarese l'assessore Saltamartini sulla rete regionale di ortopedia aumenteremo le prestazioni del pubblico ma non ha detto dove le aumenteranno se a Fano se a Pesaro se in un'altra località c'è proprio c'è proprio una domanda specifica a questo proposito all'assessore e la risposta è ancora non è stato deciso nulla anche perché dobbiamo farlo sulla base delle indicazioni che verranno dalla direzione dell'Ast 1 per essere chiari noi finora abbiamo solamente aumentato per una settantina di unità il numero dei posti letto all'ospedale di Pesaro per l'esigenza di un riequilibrio dei posti letto in rapporto alla popolazione rispetto ad altre aree vaste e quindi rispetto ad altre località della regione insomma siamo ancora così in bilico aspettando una decisione importante per il nostro territorio dalla giunta regionale e qua vediamo anche le foto dell'incidente che si è verificato ieri in autostrada quando è andato fuoco un auto articolato vediamo appunto la nuvola di fumo che si è elevata anche qua è ancora più esplicita nera si è elevata appunto dal primorchio in fiamme ancora cronaca tre Rolex con un assegno falso deviata la telefonata di verifica si parla di un raggiro tecnologico da 25 mila euro ai danni della venditrice e della banca era arrivato a deviare la linea del telefono pensate della banca per rispondere al cliente che chiedeva rassicurazioni su un assegno per pagare un Rolex era veramente un truffatore molto molto esperto e aveva già sperimentato questa tecnica in altre occasioni riuscendo a spillare soldi alle sue vittime ebbene si tratta di un 35enne napoletano le cui iniziali sono CL accusato di truffa nei confronti di una signora di Fano di 53 anni attenzione è andato a processo e sconosciuto il complice che ha confermato la copertura del titolo ebbene ieri c'è stata l'ammissione dei testi in udienza con l'imputato difeso dall'avvocato d'ufficio Andrea Paponi ebbene a altri precedenti dicevo l'udienza comunque è stata aggiornata il giudice deve ancora esprimersi addio al padre della cantieristica fanese è morto l'ingegnere Moschini aveva 88 anni che promosse la nautica oggi le esecue nella chiesa di Caminate a Carlo Moschini la città e il territorio debbono debbono molto debbono molto non solo per lo sviluppo economico che hanno avuto grazie appunto alle sue invenzioni alla sua perspicacia ma anche alla sua simpatia infatti era un insegnante ed era molto molto amato molto stimato dagli studenti andiamo andiamo a Colli del Metavoro cambia vita le Canarie sottrazione di minori ebbene un padre di famiglia se ne va con i figli per tenerli con sé e la sua compagna lasciando la madre dei bambini qui disperata l'accusa è rivolta a un 43enne separato che aveva portato via con sé i figli di 4 e di 6 anni ebbene ora la cosa è stata rievocata in tribunale e i bambini sono stati riportati a Colli al Metavoro dalla madre l'uomo per evitare l'arresto ha patteggiato dunque è stata ammessa la costituzione di parte civile ma per il risarcimento si dovrà procedere in sede civile oggi l'uomo viverebbe tuttora a Lanzarone ma non si sarebbe più messo in contatto con i figli ha patteggiato 8 mesi di reclusione con la pena sospesa giardini pubblici una riqualificazione dopo 15 anni a Fossombrone e vedete è stato insediato il cantiere qui abbiamo la foto appunto dell'inizio dell'attività lavorativa ebbene si riqualificano i giardini di Viale Cairoli finalmente un punto d'arrivo per un progetto che aveva così iniziato il suo iter burocratico da diverso tempo terre roveresche la discarica gestione post morte i sette sindaci prendano tempo per quanto riguarda l'esame di un progetto non poco complesso non poco articolato come quello di Feronia anche il sindaco Sebastianelli si riserva di studiare i documenti l'azienda del digestore ha proposto una soluzione che consente di contenere i costi pubblici e in questo rendering vediamo la discarica come dovrebbe essere bonificata e abbiamo anche il digestore che dovrebbe essere realizzato nei pressi a questo punto diamo un'occhiata anche alla pagina di Senigallia dove si parla di cronaca si parla di cronaca perché anche qui abbiamo un episodio piuttosto squallido dopo il flirt sui social un invito trappola a casa vittima una quattordicenne e in un tema scrive ha abusato di me ebbene è salito a scuola questo episodio una ragazzina di quattordici anni accusa un uomo di averla violentata l'incontro al bar frequentato da amici in comune un corteggiamento sui social poi l'invito a casa per vedere un film insieme uno scambio di effusioni poi sul letto poi la violenza l'uomo l'avrebbe denudata costringendo la compie degli atti sessuali lei ancora quattordicenne per alcuni attimi infiniti è rimasta impietrita poi finalmente ha reagito si è alzata di scatto ha gridato di smetterla pregandolo di riportarla a casa insomma un episodio veramente dequalificante per quanto riguarda l'azione di questa persona per quanto riguarda invece la pagina pesarese siamo ormai in conclusione voglio segnalarvi questo articolo per così darvi la curiosità di vedere come Pesaro si appresta a organizzare il suo Natale la capitale della cultura prepara un super Natale 43 giorni e 100 iniziative l'albero si illuminerà il 26 novembre alle ore 18 attesa per il Cater Capodanno e insomma leggere questo articolo così come puoi vedere anche tutte le altre iniziative che si svolgeranno nei vari centri della provincia fa bene al cuore perché il Natale è una bella medicina questo al momento è tutto chiudiamo appunto i giornali io vi do appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7 sempre per la rassegna stampa e intanto vi auguro un buon weekend di Grazie a tutti.